Sono Davide Scalenghe e sono qua per un messaggio importante che vi voglio lanciare, ovvero un messaggio che ha a che fare con la protezione e la promozione dei diritti umani, dei diritti civili, dei diritti di tutti. Andate sul sito certidiritti.it e se vi va iscrivetevi all'associazione promossa dal partito radicale Certi Diritti. Grazie a tutti.